Musica Benvenuti a Tu per Tu, abbiamo ospite in questa puntata donata Borgonovo Re, consigliere provinciale del PD. Quindi, innanzitutto con lei vogliamo affrontare un discorso che le sta particolarmente a cuore e del quale si è occupata, più volte si occuperà appunto in consiglio provinciale, cioè parliamo di migranti e richiedenti asilo. Perché? Di che cosa si sta occupando? Ma proprio in questi giorni verrà discussa in consiglio provinciale un'interrogazione a risposta immediata che ho presentato, che ha un tema particolare sotto attenzione. All'interno del grande tema migranti e richiedenti asilo c'è un problema che adesso si sta facciando nella nostra realtà, ma in tutte le realtà italiane che accolgono i richiedenti asilo. E cioè si stanno chiudendo i percorsi, diciamo, le procedure di richiesta di asilo che queste persone naturalmente attivano all'interno del nostro paese. Queste procedure sono procedure molto lunghe che però a un certo punto arrivano a conclusione. E una volta esauriti i diversi gradi di giudizio, quando il giudice pronuncia il diniego e quindi il rigetto della richiesta di asilo, il problema è cosa accade a queste persone. Perché a quel punto non hanno più un titolo, diciamo così, giuridico che ne legittima la presenza sul nostro territorio. Però, però, sono spesso persone, e qui penso naturalmente ai casi che meglio conosciamo all'interno della nostra provincia, sono giovani che sono stati inseriti all'interno di progetti, che hanno costruito relazioni, che sono stati adottati da comunità o da associazioni, che infatti adesso iniziano a mostrarsi preoccupate sul futuro di questi giovani. Ora, noi siamo consapevoli che, soprattutto ragazzi, ma insomma le persone che arrivano sul nostro territorio hanno al 60% le condizioni che consentono loro di ottenere una protezione internazionale, che sia lo status di rifugiato o che siano altre forme di autorizzazione, chiamiamola così, anche se non è questa la parola corretta, a restare sul nostro territorio. E poi c'è una forte percentuale, tra il 30 e il 40%, insomma, di persone che non hanno queste caratteristiche, che naturalmente sono alla ricerca di condizioni di vita migliori, più adeguate, di un futuro che consenta loro di svilupparsi come persone e di aiutare le famiglie che sono rimaste invece nei territori di origine, però non hanno quelle caratteristiche tipiche di chi ottiene poi lo status di rifugiato. Allora, di loro cosa facciamo? La domanda comincia ad essere una domanda significativa, importante. Abbiamo bisogno di capire se, per esempio, i giovani che sono inseriti in progetti di inclusione, di integrazione o interazione positiva con le comunità non possano essere protetti, mantenuti in quelle situazioni. Io credo che non possiamo fermarci, ma lo capiremo anche discutendo con l'assessore competente per materia, non possiamo fermarci ad una gestione burocratica. Non ha il titolo via, che poi questo via non sappiamo bene come si traduca, perché non è che vengono messi su una nuvoletta e rispediti da dove sono arrivati. Quindi io credo che le istituzioni e la comunità insieme debbano provare a trovare risposte. Il Trentino potrebbe essere un buon laboratorio per anche il resto del paese. Sull'assessamento di bilancio, invece, quali osservazioni fa? Ma intanto abbiamo qualche incertezza in più che deriva dalla recente pronuncia della Corte dei Conti, quindi abbiamo bisogno di capire con gli uffici della provincia qual è realmente la situazione delle risorse. Certo, in sede di assestamento di bilancio avremo bisogno di fare il punto su alcuni temi che sono nodali per la nostra comunità, vuoi per affezione, vuoi per convinzione, io credo che il tema dell'agricoltura sia uno di questi temi. Oltretutto abbiamo avuto anche situazioni difficili legate a queste stranezze del tempo, che però forse stranezze non sono. Avremmo davvero bisogno di cominciare a ragionare seriamente sulla dimensione del cambiamento climatico che si sta ormai mostrando ai nostri occhi con un certo rigore. Quindi il tema dell'agricoltura è un altro tema che mi sta particolarmente a cuore, tra i tanti, ma naturalmente siamo 35 consiglieri, a questo serve il numero, no? A mettere insieme temi e questioni è quello della montagna, cioè dell'attrezzarsi, diciamo così, della nostra provincia autonoma per affrontare un impegno che ci è stato affidato in fondo dal Parlamento europeo che è quello di predisporre insieme ai territori di montagna europei gli elementi per la costruzione di un'agenda per la montagna che il Parlamento chiede alla Commissione di predisporre. Un'agenda di politiche per la montagna, che potrebbe venire incontro a quelle richieste che spesso sentiamo fare anche dai nostri cittadini, ma i nostri territori hanno caratteristiche particolari, non possono, l'Europa non li può trattare come se fossero una grande pianura. Ecco, siamo nella condizione di poterci occupare di questo. Ora invece ci occupiamo della cosiddetta recinzione di Piazza Dante, se ne è parlato molto in questi ultimi giorni e noi proprio nei giorni scorsi abbiamo realizzato alcune domande chiedendo ai Trentini che cosa ne pensano di questa recinzione. Secondo me l'ipotesi di recintare non è una soluzione a lungo termine, può essere una misura presa così e sull'onda del panico, della situazione momentanea, ma penso che in realtà la piazza sia abbastanza presidiata. Certo, è brutto, però io ho visto anche all'estero tanti parchi vengono recintati dopo una certa ora e chiusi. Quindi lei sarebbe per chiuderla, insomma? Se la situazione è questa e continua, sì. Ecco, ovviamente questa è una di quelle domande sulle quali i Trentini cittadini si dividono, ecco. La sua posizione? Ma io concordo con quanto ha detto la giovane, la ragazza in apertura. La chiusura della piazza è una misura inefficace, semplicemente, come dire, tampona o appare come il tamponamento di un problema, in realtà lo sposta altrove. Non è che chi sta dentro adesso la piazza evapora, no? No, va a collocarsi in altri luoghi e forse vi avrebbe da dire la piazza è più facilmente controllabile e se ci sono fenomeni come quelli cui abbiamo assistito nei giorni scorsi, anche per le forze dell'ordine, poter intervenire in un unico luogo monitorandolo nel tempo, sicuramente molto meglio. Il ragionamento, credo, più largo che va fatto, in fondo è stato fatto dallo stesso Consiglio Comunale del Comune di Trento, che ha adottato a gennaio una mozione molto interessante, che contiene 17 azioni, sulla quale forse si tratterebbe di capire quali azioni sono state effettivamente intraprese, che tipo di intervento è stato fatto dalle diverse autorità. Io temo che la butad della recensione della piazza sia stata, appunto, come diceva la giovane, una reazione al panico neanche tanto razionale. E siccome non stiamo parlando di un parco come Hyde Park o parchi in altre città, ma lo stesso nostro parchetto di San Marco, che a una certa ora chiudono, ma stiamo parlando di un luogo di transito, di un luogo di passaggio, di un luogo anche di aggregazione, io credo che dobbiamo cercare altre soluzioni. Noi ringraziamo molto Donata Borgonovo, reconsigliere provinciale del PD, che è stata nostra ospite. È tutto per questo appuntamento con A Tu per Tu, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.